L'ospedale di San Benedetto come l'idra di Lerna. Tagli una testa e ne spuntano due. Sistemi un problema e ne sorgono subito degli altri, ben più preoccupanti. Ma mentre Ercole riusciva a mettere K.O. il mostro pluriteste, il direttore generale dell'ASUR 12, Giuseppe Petrone, fa fatica a rispondere alle costanti polemiche che continuano ad interessare la struttura. L'ultima in ordine di tempo? Il Madonna del Soccorso non sarebbe a norma e per sistemare l'edificio occorrerebbero 1.300.000 euro. Un mese fa, infatti, l'ASUR 12 fece richiesta per il certificato antincendio. Da qui partì un controllo dei pompieri, che rilevarono delle irregolarità strutturali, mancanze riguardanti gli ascensori, le porte e le finestre. Su queste irregolarità Petrone non si pronuncia, mentre con una nota odierna passa a commentare le notizie diffuse a mezzo stampa sull'assenteismo all'ospedale. È stata la stessa direzione, si legge nel comunicato, a monitorare le presenze attraverso strumenti informatici e ad accertare le assenze di alcuni dipendenti. Assenze alla base dell'indagine avviata dall'autorità giudiziaria. Petrone ridimensiona invece il blitz dei NAS, spiegando che si tratta di un controllo a campione programmato dal comando regionale, che investe tutte le strutture sanitarie, che casualmente ha coinciso con le indagini della Polizia di Stato. E la stessa direzione sanitaria, sindora, nel caso le indagini sugli assenteisti dovessero accertare delle responsabilità, annuncia il pugno di ferro contro gli scansafatiche, siano essi medici, infermieri o amministrativi.